Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 25 febbraio, ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo capitolo 7 versetti dal 7 al 12. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra e se gli chiede un pesce gli darà una serpe, se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Il Vangelo di oggi ci offre il modo di approfondire il tema della preghiera, perché abbiamo detto che la preghiera è proprio relazione, se infatti almeno in questi giorni abbiamo proprio potuto definire il fatto che la preghiera sia soprattutto una questione di relazione, non tanto di parole e oggi Gesù continua a istruirci sulle caratteristiche di questa relazione di fiducia che siamo chiamati a custodire e ad alimentare nei riguardi di Dio padre. Questo rapporto di fiducia sembra essere il fondamento sul quale si costruisce tutta la scrittura anche, perché Gesù lo dice, no questa è la legge e i profeti. Legge e profeti dovevano essere proprio il contenuto della tradizione religiosa ai tempi di Gesù, visto che a quei tempi alcuni scritti dell'attuale Antico Testamento, nonché tutti gli scritti del Nuovo Testamento giustamente, ancora non erano stati inseriti nella Sacra Scrittura. Allora i verbi chiedere, cercare, bussare, che troviamo nel testo, ci invitano a riflettere che se non si fanno certi passi concreti, se non si osa dichiarare a se stessi o agli altri i propri bisogni, se non si ha questa libertà confidenziale con noi stessi, con gli altri e con Dio, la preghiera resta una perdita di tempo. Ne deriva che la preghiera, proprio perché relazione col padre, è anche una presa di coscienza, un esercizio di libertà interiore. Un altro elemento interessante che emerge dalle parole di Gesù in questo testo sono le domande provocatorie che Gesù ci porge, quasi a stimolare la nostra intelligenza. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra e se gli chiede un pesce gli darà una serpe? A dire che se davvero credessimo che Dio è padre, crederemo anche che lui non ci potrà mai ingannare, non ci potrà mai dare l'impressione di darci da mangiare, non ci darà mai qualcosa che abbia solo le sembianze del cibo, perché Dio è padre e il padre nutre i suoi figli. La preghiera allora è anche esercizio di fiducia in Dio, perché è un affidamento non al nostro dubbio ma alla bontà del padre. Il testo poi termina con un'affermazione che è anche la regola d'oro, cioè la regola di morale universale per tutti i popoli della terra. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa frase non deve essere propria di Gesù e del suo insegnamento, è ormai certo che provenga dalla scuola arabinica, ebraica, ma è anche risaputo che una tale affermazione si ritrova anche in tante religioni, in tante culture, perché di fatto essa non conferma altro che la pratica del bene reciproco tra gli uomini, la regola fondamentale sulla quale si costruisce il rispetto umano. La cosa interessante per noi è che Gesù inserisce questa norma morale universale nel suo insegnamento e lo fa proprio dopo aver guidato i discepoli a comprendere il rapporto di fiducia che esige la relazione con Dio padre. La fiducia in Dio allora è per l'insegnamento di Gesù fondamento della fiducia che si può avere anche verso ogni altro essere umano. Ecco allora che la preghiera per i credenti è tutta quella serie di atti interiori, di libertà abbiamo visto, quindi presa di coscienza e libertà, di fiducia in Dio, che formano la relazione con Dio e qualificano anche i rapporti umani. Perché non esiste preghiera che non sia anche atto di bontà verso gli altri, azione che realizza il bene e la felicità nostra e altrui. Così se abbiamo una relazione giusta col padre abbiamo anche una relazione buona tra di noi e come notiamo dalla conclusione di questo testo, se abbiamo una buona relazione giusta col padre e buona tra di noi possiamo compiere la scrittura, cioè viverla, metterla in pratica, la legge e i profeti. Allora oggi davvero chiediamo al Signore che ci doni una tale fiducia in Dio che ci porti a dare fiducia agli altri, a fare il bene, a desiderare il bene e la felicità degli altri, così da vivere nella gioia l'osservanza della legge e le prescrizioni dei profeti. Perché il cammino di conversione di questa quaresima che la Chiesa ci sta offrendo in questo tempo sia un vero cammino di gioia. Buona giornata!